Siamo arrivati alla ventitresima edizione del Festival Pianistico Città di Sarzana e come amministrazione comunale ne siamo particolarmente orgogliosi perché il Festival Pianistico si inserisce in una serie di iniziative culturali che hanno caratterizzato e sempre più caratterizzano la nostra città. Quest'anno arriviamo alla ventitresima edizione, devo dire che abbiamo avuto nel corso dell'anno anche l'apertura di nuovi spazi, sempre spazi nuovi per la musica e per la cultura. Il palco di Piazza De Andrè, abbiamo rifatto il palco della Fortezza Firma Fede, a breve andremo all'inaugurazione del restaurato e bellissimo Teatro degli Impavidi. Quindi noi teniamo moltissimo queste amministrazioni e questa del Festival Pianistico è un'amministrazione di qualità, di alta qualità, di musica colta, che ci piace particolarmente e quindi ne siamo gelosi e ce lo teremo stretto per tutti i prossimi anni. Il Festival così articolato si svolgerà tutto nel Salone Porticato della Fortezza Firma Fede in Cittadella nelle serate dell'1, 3 e 6 agosto. Il 1 agosto, martedì, ci sarà concerto inaugurale con un grande pianista napoletano e di scuola napoletana, allievo di grandi maestri come Aldo Ciccolini, Sergio Fiorentino, che è suonato un po' in tutto il mondo, e presenterà un programma dedicato a Cimarosa e Chopin, con le quattro ballate di Chopin, la polacca fantasia. Chopin è un po' il fil rouge di tutto il Festival, perché anche nel secondo concerto, che è il 3 agosto, con la grande pianista Savonese, una pianista Ligua, e Cinzia Bartoli, vi sarà un programma da Chopin a Piazzolla, in cui presenterà due mazzurchi, lo scherzo numero due è la prima ballata, e poi chiuderà con una grande opera di Ravel Gaspar de la Nuit e Oblivion Libertango di Astro Piazzolla, un programma quindi originale e interessante. E chiuderemo come caratteristiche del Festival con un giovane talento del territorio, la giovanissima pianista a 22 anni, Sara Giannetti, che è nata a Sarzana, è residente di Lugigiana, ha vinto numerosi concorsi anche internazionali, recentemente il concorso internazionale musicale Città di Sarzana, e presenterà anche lei un programma con musiche di Chopin, oltre a Bach e Schubert. L'ingresso è libero e il sito del Festival www.festivalpianisticosarzana.it